E salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Magicman03 e prima di iniziare buona festa del 25 aprile perché questo sarà il secondo video di oggi e dopo dovrei salutare Fairyfire e Alessandro Paci e finalmente come vi avevo promesso inizierò questa serie di Fast and Furious Legacy. Iniziamo con aprire il premio giornaliero. Vediamo cosa riceviamo, 75 cospi d'oro, oh vediamo qua cosa c'è, vedi info se c'è, che? Ma, no ma, ma che cacchio? Ci sono 4, no, ci sono 4, no, allora, 1, 2, 3, 4, 5 più un'altra, ci sono 6 macchine della storia, però questo ha 2500 d'ore e noi ce ne abbiamo solo 310. Proviamo questo, che costa 2000, vediamo se c'è qualche macchina eroe, sì e c'è quella che abbiamo anche nell'altra cassa. Ora vediamo qui però, che costa 500, uffa, ecco, niente di che qui abbiamo, è dilettante, vediamo cosa c'è. Ma il nome non è che mi convince, dopo non so, no quant'è che costa? 175, vabbè dai lo faccio per voi ragazzi. La figlia del dottore, il dottore siamo l'ambarabacicicocco. Questa qua è in mezzo? Spero che voi mi auguriate buona fortuna, dai tutti buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna. Che auto è? Wow ragazzi! Oh cavoli! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Una doccia Hyper! Oh mio Dio! Madonna! Oh scommetto che tutti mi avrete detto buona fortuna, buona fortuna. Madonna! Wow che figo! Mamma mia ora vediamo. Ecco qui classe A, è la prima auto della classe A che ho. Mamma mia che fortuna! Ora vediamo come si potrebbe personalizzare. Noi lasciamo così nera. Deco il cam... Deco il... Vabbè? Disegni ecco. Perché io prima di modificare le auto mi faccio il progetto. Uh ragazzi, ragazzi, ragazzi. Bandiera a scacchi. Bonde blu. Uh questo ci starebbe molto bene. Spoiler! Vediamo di chi color... Come lo potremmo fare. Questo qua. E vediamo anche... Non so... No. Lasciamo così. Nero. Kit Skok. Oh vabbè. Questo qua andrebbe bene. Le ruote proviamo. Mmh questi sono belli. Un azzurro non c'è. Vabbè, vabbè, vabbè. Stile. Gomme. Questo qua così. I fanali. Ed ecco. Questa sarebbe la nostra auto. In tutto questo totale sarebbero 2146 d'oro. Però io sono 138 quindi... Non mi basta. E... Boh direi di andare a fare una gara. Capitolo non lo faccio perché... Vabbè. Preferisco farlo online. Io e la mia crew abbiamo superato un traguardo. 53 d'oro. Classificatoria. Drifting. Il Drift King. Proviamo a fare online con la nostra doge. Speriamo di fare... qualcosa di buono. Di due. Visto che approfittiamo di questo tempo. Ho visto che l'episodio di Slitterio vi è piaciuto moltissimo. E continuerò la serie. Siamo contro una Cadillac. 848 pp. Ok. Oh cavoli. No. Partenza anticipata. Porca miseria. Intanto... Driftiamo. I'm a Pro Master. Oh... Ottimo. Sono meglio di Han. E di Sehan. Per chi conosce Fast and Furious 3. Oh cavoli. E va a vincere. E va a vincere. 15 minuti per cambiare l'olio. Ecco. Intanto che aspettiamo. Vi volevo dire che io alcuni video. Per esempio alcuni. Io li ho registrati ieri di video. Eccetera eccetera. Quindi se voi mi chiedete di salutare. Però in un video non saluto. Significa o che l'ho fatto prima. Perché magari alcune volte quando non posso fare il video. Ho dei video e quindi posso caricare. E quindi carico dei video che ho già fatto. O se no mi dimentico. Però se mi dimentico. Lo metto... Cioè lo scrivo sotto nei commenti. E domani dovrebbe uscire un video in cui non saluterò nessuno. Però non vi preoccupate che... O lo scriverò nei commenti o ne farò un altro di video. Ora... Cerchiamo di puntare in quinta posizione. Così ci daranno un po' d'oro. Siamo a Rio de Janeiro. Non so che dire raga. Ho visto che siamo arrivati a 40 iscritti. Sono molto contento. E ce ne mancano altri 10 per arrivare a 50 iscritti. E mi raccomando che quando arriveremo a 50 iscritti. Che secondo me ci arriveremo facilmente. Uscirà lo speciale 50 iscritti. Il nostro primo speciale. Siamo contro una BMW M4 Coupé. Partenza anticipata. Uffa. Driftiamo. Driftiamo no. Attenzione. No. Che mi sta superando. Brigati. No. Ho vinto. Mamma mia. Mentre driftavo con il nitro l'ho superato all'ultimo secondo. Mamma mia. Mamma mia. Oh che fatica ragazzi. Che fatica. Che fatica. Riccompensa misteriosa. Un'ora. Yeah. Intanto aspettiamo. Tutto sporcato tutto il telefono. Missioni individuali. Vediamo cosa abbiamo. 27. Facciamo un'altra gara perché se ce l'ha. Se tutto va bene dovremmo arrivare in quinta posizione. E lì dovremmo avere 25 gettoni d'oro. Ancora. Questa canzone. Allora vediamo contro chi siamo. Stiamo contro un Nissan 350Z del 2013. Partenza perfetta. Yeah. Ottimo. Ci dovremmo driftare benissimo. Ottimo. 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 Intanto l'altro non ci raggiunge più. Ottimo. E va a vincere sempre con dei buono, ottimo, grande così. e andiamo a vincere sempre 20 missioni crew, 50 punti individuali. Vediamo se raggiungiamo. Eh, più 4. Bravo, bello. Ora, vediamo se riusciamo a raggiungere la quinta posizione. E... Boh, vediamo. Si scarica. Questo gioco è un po' lento. È lento. Allora, siamo arrivati in quinta posizione, 25 gettoni, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Missioni individuali. Siamo già in 120. Allora, prima di concludere il video, andiamo a scartare un altro baule. Questo qua, dilettante. Scarica, magari. Medinfo. Vorrei vedere. Allora. Noi ci siamo presi una, una, una. Una A. Una fra le migliori, eh. Ora, grazie al vostro aiuto, dovremo ripescare. Dite sempre buona fortuna finché non si apre uno di queste porte. O la bolla blu esce fuori proprio. No, no, anche. Ambravacicicocotta, ci vedi su come ho. Non so, non lo regolamento. Non so, non lo regolamento. E andiamo qui a sinistra. Buona fortuna, ragazzi. Buona fortuna. Dizzemelo, dizzemelo. Buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna. Buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna. Dai ragazzi. No, che schifezza. Vabbè dai, usiamolo. Uffa ragazzi, scommetto che non me l'avete detto. Vediamo. Classe E. Aiuto, 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 aiuto. Vabbè dai, non si può avere tutto nella vita. Spero che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo a 4 mi piace per il prossimo episodio. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.